A Napoli questa mattina la Guardia di Finanza, nel corso di mirati interventi finalizzati alla tutela dei Made in Italy, ha sequestrato 547 orologi contraffatti di marchi noti, come Maserata e Philippe Watch, completi di confezioni ed etichette. L'attività di servizio condotta dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli è sorta da una segnalazione del nucleo speciale di beni e servizi della Guardia di Finanza di Roma, i cui sviluppi sulla filiera di distribuzione hanno portato ad individuare tre società partenopee dedicate alla vendita online di orologi di sospetta provenienza. Solo i controlli nelle sedi delle società hanno sciolto ogni dubbio sulla questione. Sono stati così ritrovati 500 esemplari di orologi posti in vendita con i due marchi e di riscontrarne la loro contraffazione. I tre rappresentanti legali delle aziende sono stati denunciati per commercio di prodotti con segni falsi e beni illecitamente detenuti posti sotto sequestro. La merce, se venduta ai prezzi degli originali, avrebbe consentito un illecito ricavo di circa 130.000 euro.